Buongiorno, sono Luca Sidoti Pinto, Consulente Residenziale dell'Immobiliare. Oggi ci troviamo a Torino, in centro, nei pressi di Porta Nuova, e vedremo un appartamento nella palazzina qui di Via Romagnoli numero 3, alla mia sinistra. Andiamo! Ci accingiamo ora a vedere questo appartamento al secondo piano, da cui si accede da questa rampa di scale, qui alla mia sinistra. L'ingresso da questo balatoio. L'appartamento in questione è provvisto di zona giorno, con questo parziale mobiglio. Il soggiorno è diviso dalla zona notte, da questo disimpegno. La camera da letto, molto ampia, con la faccia nell'interno portile. A differenza del resto dell'appartamento, che è stato completamente controsoffittato con faretti, la camera da letto, invece, è ancora, con questa volta, molto alta. Questo è un piccolo ammoglio a muro. Il nostro disimpegno ci porta al bagno. I servizi con aspirazione coatta prevedono la doccia. Le condizioni di affitto. La nostra richiesta è pari a 370 euro più 30 euro di spese mensili. Il riscaldamento è autonomo ed è fornito da una caldaia che abbiamo qui sul ballatoio, che ora vi andremo a far vedere. Grazie.